Grazie a tutti voi. Tenerezza di Dio, la tenerezza di Maria forse rappresenta il segreto per tenere in piedi un matrimonio. Almeno così è stato per due coniugi santi, i primi coniugi santi, i coniugi Marten, a raccontare di loro, a raccontare del miracolo che gli ha portati a diventare santi. Suor Roberta Vinerba e non solo! Suor Roberta, oggi è tosta! Ciao Lucia! Oggi è bella! È tosta e bella! Perché se la tenerezza è quella che ci aiuta veramente anche a vivere un rapporto di coppia, uno difetta molto nel mondo di oggi e due c'è da domandarsi poi perché certi miracoli avvengano e altri no. Ma io ti voglio portare piano piano, se mi permetti, a raccontare dei coniugi Marten, destinati a ben altro secondo i loro desideri ancestrali. Ma i coniugi Marten noi li conosciamo dal diario della figlia, prima di tutto, perché bisogna dire che i coniugi Marten sono il papà e la mamma di Santa Teresina di Gesù Bambino, Santa Teresina di Lisie, una delle più grandi sante della storia della cristianità. Era della piccola via. La piccola via, una ragazzina che arriva ad andare dal papa, poco più che adolescente, a chiedere la dispensa per poter entrare prima del tempo in monastero. Muore giovanissima, 23-24 anni se ricordo bene, muore giovanissima, ma nella sua vita ha lasciato un'impronta tale, perché tu pensa che una suora carmelitana, qual era lei, una monaca carmelitana, quindi di clausura, morta giovanissima, è la patrona delle missioni, perché lei scoprì che aveva tanto amore per Gesù da volerlo portare a tutti e si chiedeva come potesse fare lei così piccola e allora ebbe l'illuminazione e disse che la Chiesa è un corpo, questo è San Paolo, nella prima lettera dei Corinzi, ogni membro del corpo ha una sua funzione, ma c'è un organo che serve a tutte le membra, che è il cuore. E Sor Roberta, il cuore è la chiave per comprendere questa storia d'amore difficilissima, attenzione, non pensiamo che siano stati gli innamoratini di Peine, e anche particolarmente bella, lui è orologiaio, lei è merlettaia, una famiglia anche agiata, numerosissima, conoscono il dolore della perdita dei figli, ma entrambi si erano nella loro mente destinati a Dio, però su un ponte di Alainçon avviene qualcosa di particolare, l'incontro tra queste due mani che si sfiorano. Ma sì, perché poi l'amore noi pensiamo che sia una cosa fatta di chissà quale passione che diventa anche violenza a volte. Invece l'amore davvero è fatto di sguardi, questi due si sono guardati, si sono sfiorati, e lì è nato quell'amore che ha fatto di tenerezza. E vorrei tornare a quello che dicevi all'inizio, la tenerezza, poi anche il cuore di cui parlavo. Non stiamo parlando di marmellata, non stiamo parlando di quella roba. La tenerezza è un attributo estremamente forte, è un atto di fortezza la tenerezza. Non ha a che vedere con quel tenerume che adesso noi crediamo. Per cui un amore fatto di tenerezza è quell'amore che guarda l'altra persona come un capolavoro, come un gioiello, cioè comprende che è qualcuno che per quanto ti apparterrà nel legame coniugale, nell'intimità coniugale, non sarà mai tuo. Perché prima che tuo è un dono che ti fa Dio. È una principessa figlia di re, è un principe figlio di re, quello che ti viene dato. E allora lì c'è il rispetto. La libertà è un concetto estremamente nuovo, ma anche in fondo il sogno di tutti. Io mi devo sentire libero all'interno della coppia, mi devo sentire libera di fare quello che voglio. Dovevo realizzare. Realizza bravissimo. Lì invece la realizzazione piena è questo sguardo l'uno con l'altro. In un momento durissimo la loro vita perché di nove figli ne perdono quattro. La metà praticamente, sì. E la vai a dire, vai a sentire la tenerezza di Dio quando ti succedono queste cose. Almeno questa è l'obiezione che fa l'uomo ad oggi. Sai, non è questione di dare delle risposte a quello che tu mi chiedi, è questione di una relazione d'affidamento a Dio. Cioè o ti fidi e fidarsi non vuol dire buttare all'ammasso il cervello. Cioè quando tu dici ma questo signore non mi par giusto. Fidarsi vuol dire entrare anche in una relazione di contestazione. Ma se tu ci pensi bene, quando contesti con qualcuno è perché non hai interrotto una relazione. Perché comunque continui a fidarti di lui in una coppia. Quando è che veramente le cose sono finite? Quando i due non litigano più. Quando non si parlano più. Allora, questa confidenza in Dio, la fede in Dio è fatta anche di grandi momenti di preghiera nella quale si chiede a Dio rendimi giustizia, fammi capire. Io mi fido di te, però dammi di comprendere con il cuore quello che stai facendo. Questi due l'hanno fatto. E' la prima indicazione forte che esce questa mattina. Su Roberta, ce ne andiamo da Lasson dove c'è la basilica di Santa Teresina e dove riposano anche i corpi dei due coniugi Marten. Il viaggio ha una firma doppia. Antonella Ventre e Serena Cirillo. Luigi e Zeli erano completamente convinti che il più grande obiettivo della vita fosse diventare santi. Non era riuscire nella vita a livello materiale, ma diventare santi. E questo presupponeva una vita immersa in Dio. Quindi questa basilica è il centro della loro vita di preghiera, della loro vita di coppia e anche della loro vita di immersione in una comunità cristiana che si riuniva qui. La preghiera aiuta a sormontare le difficoltà, aiuta il mondo a spostare lo sguardo al di là dei problemi, rendendo così partecipe il Signore nel risolverli. In realtà diciamo che è troppo per noi questo problema e lo affidiamo a te. La preghiera in fondo è un atto di abbandono, al contempo un dialogo. Non siamo soli nelle difficoltà. Il Signore si interessa a noi nei nostri giorni e nelle nostre prove. Quindi tutto è affidato a Dio. Questo luogo è importante perché molti dei nostri contemporanei cercano il senso della loro vita. Persone che vengono qui che hanno trovato questo senso. ed è una vita riposta in Dio. Quindi vengono a consolidare questo legame. Ma arrivano anche persone che si fanno tante domande, che sono confuse, che si trovano nella confusione e chiedono aiuto. Arrivano qui anche con la speranza di trovare un punto luminoso che le aiuti ad andare avanti. E poi ci sono anche i turisti che arrivano qui a contemplare la bellezza delle pietre. Ma ne escono colpiti dal fatto che in questa chiesa ci siano anche delle pietre vive che sono dei figli di Dio. Persone che possono guidarli ad avere un orientamento della propria vita verso Dio. Quindi chiunque entri qui dentro, alcuni piani di motivazioni, altri con dei forti dubbi e altri ancora in totale disinteresse, tutti trovano in questo luogo una guida verso Dio attraverso i coniugi Marten. La basilica è un luogo di preghiera personale per Luigi e Zelia, che venivano qui anche al di fuori delle celebrazioni. Era un luogo di adorazione, di preghiera mariana, ma è anche il luogo della vita, visto che qui è stata battezzata Teresa e prima ancora il luogo del loro matrimonio, ma anche il luogo della sepoltura di Zelia. Quindi tutte le tappe importanti della vita sono accadute qui, come dei piccoli pezzetti che si ricongiungono per costruire una vita orientata verso Dio. Questa impronta lasciata dei coniugi Marten, non spero di non essere eccessiva nel dire che io la ritrovo nello sguardo di un papà e una mamma bellissimi che vi vorrei presentare. Adel e Walter sono il papà e la mamma di Pietro, il bimbo grazie al quale abbiamo avuto la testimonianza di un certo senso l'ultima prova che ci serviva della santità dei coniugi Marten. Papà Walter, comincio da lei. Beh, voi di figli ne avete fatti, perché arriva il 2002, Pietro è il quinto. Siamo nel mese di maggio, nel mese di Maria. Sta per nascere Pietro, nasce Pietro e subito papà vi dicono che ci sono dei problemi gravissimi. Eh sì, purtroppo sì. Dopo cinque figli, cioè il quinto figlio, insomma, ci sentivamo un po' tranquilli, insomma, su quello che doveva accadere. Invece, ahimè, viene subito portato in terapia intensiva a Pietro perché non respirava bene. Insomma, la sua situazione è apparsa da subito molto grave. dove abbiamo, come dire, capito, capito, insomma, dai medici che si avvicendavano nelle cure, insomma, che per Pietro la situazione si era fatta difficile, molto difficile. Diciamo, Walter, che furono anche abbastanza diretti i medici. Sì, sì, sì. Farvi capire, mettetevi l'anima in pace, più o meno. Sì, sì. Adele, il primo pensiero per degli sposi cristiani come voi è quello di farlo battezzare. Pietro viene battezzato in ospedale? Viene battezzato, sì. Ci dicono che la situazione è gravissima, ci hanno richiesto la possibilità di fare una biopsia polmonare per vedere, di capire quale fosse il problema che lo portava in quella condizione. E prima ci hanno detto, visto la situazione, che forse era il caso se per noi era una cosa importante, assolutamente, sì. Abbiamo chiesto a padre Antonio Sangalli, che in quel periodo era il nostro padre spirituale, ci accompagnava proprio come coppia, come famiglia, e gli abbiamo chiesto di venire a battezzare Pietro in ospedale. Però proprio questo padre Antonio ha un ruolo chiave nella vostra storia. Cosa fa padre Antonio? Intanto, poi la credenza, io devo dire, intanto mi abbraccio Pietro, perché oggi non è andato manco a scuola, ci sta guardando da casa. Basta questa immagine per capire che livelli eravamo. Esatto. Padre Antonio cosa vi dice? Padre Antonio sale in macchina, siamo andati a prenderlo, al Carmelo di Monza, e ci ha fatto dono di un'immaginetta dei coniugi Marten, quella che prima è andata in onda, e siccome loro avevano perso appunto quattro bambini in tenera età, ci ha detto affidatevi a loro, ma per sostenere noi, cioè il suo scopo in quel momento era quello di dare forza a noi. Questo è un punto chiave, Walter, perché in fondo ogni genitore chiede il miracolo della guarigione di un figlio, però voi in un certo senso, una parte di voi nel cuor suo sapeva che le cose erano quelle, ma voi il padre eterno non l'avete voluto proprio sfidare, contro tutto e tutti. Avete detto preghiamo, 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 e avete fatto l'impossibile perché anche altri pregassero per voi. Eh sì, è stato così, perché dopo che ci hanno dato purtroppo alla ferrave notizia che per Pietro non c'era più nulla da fare, allora abbiamo proprio, come dire, in una notte, proprio quando siamo tornati a casa dopo l'esito della biopsia, abbiamo come avuto la grazia di un cambiamento nel cuore. Tutto ormai diceva che per Pietro non c'era più nulla da fare, e allora proprio con Adeli ci siamo detti, ma insomma se per la scienza non c'è più nulla da fare, ci resta ancora qualcosa, che chiedere, perché se il Signore voleva lo poteva guarire, ma non sapevamo se questo era comunque il suo disegno, il suo desiderio. Valte, ti blocco perché io vedo, su Roberto ormai ci conosciamo come due sorelle, e so che i tuoi pensieri sono i miei in questo momento, di grande commozione vi devo dire la verità, se Dio può lo fa, loro sono andati contro tutto e tutti, il funerale era già stato preparato, cos'è che fa esplodere in un cristiano questo grido di dolore, ti fa aggrappare al cuore di Dio e dire provaci comunque. Signore se tu vuoi puoi guarirmi, chiese qualcuno nel Vangelo, un lebroso, signore se tu vuoi puoi guarirmi. Allora quello che fa esplodere è il bisogno confidente, mi viene da dire, non semplicemente il bisogno, lì siamo davanti al bisogno primordiale, salva mio figlio, però ripeto confidente, sapere che Dio può tutto, io ricordo una madre con una figlia in coma dopo un incidente che aveva messo sotto il cuscino di questa figlia l'immaginetta di padre Pio era, e questa madre mi diceva perché se lui vuole può dirlo a Dio, perché Dio se vuole può tutto, a chi vuoi chiedere, se non a colui che può tutto sapendo che ti ama, perché la chiave è questa, cioè è l'amore di un padre quello che tu cerchi, perché Dio è padre, per cui se Dio è padre sa quello che è bene per i suoi figli, anche quando quel bene ti scortica la pelle. Adele, voi non soltanto cominciate ad avere più forza, tra l'altro dopo quella notte il bambino si aggrava in una maniera disperata, allora chi ha una fede più superficiale dice vabbè basta, ho buttato una notte a piangere e pregare, voi non solo non perdete la fede, bussate alle porte dei vicini, fatelo anche, pregate anche se voi non ci credete e poi capite che quel Dio misericordioso e padre aveva un disegno buono anche in quel caso. Adele ma me lo fa capire? Cos'è che non vi fa vacillare? Ma per noi nel farci memoria per la verità, perché eravamo così sconvolti da quello che stava succedendo, che per un attimo abbiamo detto, la scienza ha fatto le sue indagini, ha detto l'ultima parola, invece in questo farci memoria di essere figli di un padre buono, che è il Signore della vita, ecco per noi è stata la forza che ci ha mosso e che ci ha portato a domandare a tutti di unirsi a noi nella preghiera e questa cosa è stata per noi molto importante perché ci ha dato proprio il primo dono che è stato toccare con mano la bellezza di appartenere al popolo del Signore. Sono soli, nel battesimo si diventa comunità. Esatto, esattamente, questa cosa è proprio stato di grande conforto, ma i giorni passavano, la situazione di Pietro era sempre più grave, crisi respiratorie, cardiache, gli davano il 100% di ossigeno, aveva sviluppato dei pneumotorace recidivanti, ne ha fatti una dozzina recidivanti e davanti a questa situazione con anche alcuni che continuavano a dirci che era una sofferenza inutile quella di Pietro e questa cosa chiaramente era un dolore grande di fronte. Perché Adele, voi chiedete, Walter mi aiuti lei, voi chiedete ai medici comunque di fare il tutto per tutto, il benedetto barra maledetto respiratore da togliere visto che aveva l'ossigeno dall'esterno, voi quella cosa gliel'avete chiesta fino all'ultimo e vi hanno quasi per dire che vabbè, lo facciamo per darvi il tempo di accettare tutto questo. Che cosa succede ad un certo punto? Succede appunto che i medici erano, soprattutto il primario ci disse guarda non possiamo fare più nulla, allora ricordo che in occasione appunto di un colloquio con il primario abbiamo detto bene se per la scienza non c'è più nulla da fare allora noi chiediamo proprio un miracolo per la guarigione di Pietro. La fermo a questo, la fermo a questo, ce ne andiamo un minuto in pubblicità, poi state con noi soprattutto i madri e le padri e i padri che in questo momento si trovano in questo momento di difficoltà, non siete soli, aspettate. Pietro nasce nel 2002, è un ragazzone di quasi 17 anni con una gravissima malformazione polmonare incompatibile con la vita. I medici gli dicono che è questione di ora, viene battezzato in ospedale, ai suoi genitori arriva la segnalazione dei coniugi Martena, il papà e la mamma di Santa Teresina di Lisieux, la santa della piccola via e da allora si scatena giorni e giorni i preghiere che coinvolgono un'intera comunità anche di non credenti, poi la preghiera dei non credenti di son Roberta Vinerba deve essere ancora più bella. Valtere, quando dopo due giorni impossibili in cui avevate già preparato il funerale, arrivate in ospedale e un'infermiera dice cos'è quella faccia. Però se posso, c'è un passaggio importante, fondamentale, perché durante il mese in cui è stato in terapia intensiva la situazione appunto era drammatica quotidianamente e questo dolore di essere davanti a... Possiamo parlare di accanimento, tra virgolette, il rischio accanimento, cioè... C'era, era ventilato, la voce girava sotto questo aspetto perché, ma si capisce anche per la scienza c'era già, la diagnosi era già tutto chiaro, quindi la nostra attesa che il signore intervenisse sembrava un po' un delirio da genitori, insomma. Ecco, per noi però davanti a questo dolore innocente ci interrogavamo anche noi e allora questo destino buono a cui tutti siamo chiamati ci dicevamo ma dov'è per Pietro in questa condizione? Poi vicino a lui c'erano tanti altri bambini che soffrivano e il dolore innocente è quanto di più difficile da capire e da portare e abbiamo osato un pochino ancora col signore e abbiamo domandato che ci svelasse un po' di questo destino buono che c'era anche per Pietro e il signore veramente nella nostra vita ha sempre dimostrato di rispondere sempre al grido del cuore. Walter, un papà come lei cosa chiedeva a papà Martè? Papà Martè chiedeva proprio di darci un significato insomma a quello che stava accadendo perché come diceva Adele sono stati momenti difficili in cui non si capiva che cosa il signore ci volesse chiedere, tutto quello che stava succedendo. Posso chiedere una cosa Walter? Abbiamo detto che Pietro ci guarda e quindi questa è una storia lieto fine, abbiamo detto che questo è il miracolo della canonizzazione dei coniugi Martè, della beatificazione, ma mi faccia capire una cosa, questo dolore innocente come dice giustamente Adele è il più inconcepibile che esista. Che significato ha avuto per voi? Indipendentemente dal miracolo. Certo, per noi ha voluto dire tanto, per noi è stato nel ritrovamento di una lettera di Santa Teresa che scrive a una suora che parla del dolore innocente che davvero è molto bella, che Adele si ricorda e che ci può raccontare velocemente. Sì, è stato per noi, è fondamentale trovare questa lettera che è stata trovata aprendo a caso il libro di Santa Teresa perché una mia sorella desiderava trovare qualcosa che potesse sostenere. E si apre su questa pagina che parla della vocazione del bambino, è una lettera come scriveva Santa Teresa, quindi in forma anche poetica, che dice così Sono incantata dal piccolo bambino e colui che lo porta fra le braccia lo è ancora più di me. Come è bella la vocazione del bambino, non è una missione che deve evangelizzare ma tutte le missioni e come? Amando, piangendo, spargendo fiori a Gesù quando dorme. Allora Gesù prenderà questi fiori, darà loro un valore inestimabile e li spargerà a sua volta su tutte le rive e salverà le anime con i fiori, con l'amore del piccolo bambino che non vedrà nulla ma che sorriderà sempre, anche attraverso le lacrime. Un bambino missionario e guerriero. Che meraviglia! Questa è la lettera di Santa Teresa. E voi Pietro così guerriero! Esatto! Per voi eri piccolo guerriero, ma fra l'altro era proprio la cosa che ci ha sorpreso era che noi avevamo dato questo soprannome a Pietro, per noi era il nostro guerriero che stava combattendo per la sua vita. E capite che trovare questa parola alla fine della lettera è stata come una dedica, una dedica per lui. E allora di fronte a questo c'era la risposta. Il Signore ci aveva detto che quello che Pietro stava vivendo era la sua vocazione, che non era perduto nulla di quel dolore, non era un dolore inutile ma partecipava alla salvezza delle anime. Walter, il giorno in cui arrivate in ospedale, qualcosa cambia? Eh sì, perché per noi è stata una sproporzione enorme. È come stare davanti a un barato. Tu entri dentro in ospedale, ormai erano passati anche due giorni piuttosto difficili per Pietro, il 26-27 di giugno. Lui ha delle crisi di spirito così gravissime. Cioè proprio che tanto ci chiama a primaria e ci dice ormai è finita. Entriamo il 29 di giugno che è il giorno del suo onomastico e ci viene incontro appunto l'infermiera e ci dice perché fate quella faccia. E noi rimaniamo un attimo come dire stupiti e anche un pochino insomma arrabbiati. 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 Che dici perché cosa stai dicendo? È come se non avesse capito. Invece dice con un gran sorriso noi abbiamo potuto abbassare al 70% l'ossigeno e lui dà segni di voler respirare da solo. Se non è miracolo questo, son Roberta. E dopo tre giorni viene stupato. Dopo tre giorni. Vi strappo la promessa che tornerete qui con Pietro. Perché poi c'è questa foto che io ho il dovere di farvi vedere e raccontare ma è un'altra storia. Son Roberta, ho il difetto terribile di vivere i drammi degli altri, forse di distruggermi anche la vita, lo ammetto. Ma ci sono dei genitori che in questo momento non hanno avuto quella grazia e tu mi devi spiegare dove è la bontà di Dio che ha un disegno buono per ognuno di noi. La bontà di Dio la vediamo in questa storia che diventa segno di speranza per tutti perché come il Signore si è chinato su questo bambino, su questi genitori, prima di tutto dando a loro la forza, la fede e la speranza per vivere questa storia e vedere quello che era l'invisibile, il senso di quello che stavano vivendo. Il miracolo è sempre un segno per altri, per aiutare la fede degli altri. Quindi io dico ai genitori che stanno soffrendo non perdete la speranza, Dio si china su di voi al modo che lui sa, al modo che è bene per voi, ma questa storia aiuta anche loro a sapere che Dio c'è, Dio li ama e questa storia ha un senso di salvezza. che questo è amore. Io non c'è amore.